Era ancora chino sul corpo di sua madre, Vincenzo Villani, l'ha strangolata in una mattina di terrore nella quale esplosa tutta la sua follia, mista a disperazione. L'uomo è accusato di omicidio, aveva appena perso il lavoro al cimitero di Bosco Trecase in provincia di Napoli, alle falde del Vesuvio. Non aveva un contratto, aiutava a montare croci e lampade votive e portava a casa un po' di soldi. Soffriva da tempo di turbe psichiche, Vincenzo Villani. I vicini di casa raccontano la depressione di un uomo di 49 anni che non aveva più la forza di reggere le difficoltà. L'uomo viveva a pochi passi da sua madre, la vittima, Giuseppina Portanova, di 88 anni. Vive con la sua compagna in un piccolo appartamento poco distante da quello in cui si è consumato il delitto, una casa bassa al civico 80 di via salvo d'acquisto alla periferia di Bosco Trecase. A dare l'allarme è stata proprio la convivente di Vincenzo Villani che si prendeva cura della donna. L'uomo è stato fermato dai carabinieri della stazione di Trecase mentre era ancora lì sul posto, piegato sul corpo senza vita dell'anziana madre. Vincenzo era sotto shock con gli occhi sgranati.